Ciao a tutti ragazzi oggi siamo per un nuovo video e oggi siamo ritornati su piante versus zombie più tardi non farò video perchè vado a mare vediamo questo ah è lo shop questa vai a bandura venti apriamo diamo un di sono 100 più 4 la bomba la mina e basta ok dai iniziamo ora a combattere a livello 5 oh vediamo cosa fanno e ora livello 2 si ora fammi potenziare quello fondino e questo migliore quello 2 fondino ok perfetto andiamo aspetta aspetta dai che io voglio andare a combattere però no va dai voglio andare a combattere io si ma spesso facendo un video aspetta ma che cazzo bisogna fare che cazzo che cazzo che c'è ma che vuoi andiamo ora ooooh porca miseria la webcam si si pronti l'attenza pianta ma che cosa fa quella pianta ma non fa niente ok Grazie a tutti. No, che cavolo. Riprendi. Vai, 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 vai. E' un adulto. di zazz oh cos'è cos'è l'ingidio del mondo livello rimasto arriviamo a 9 minuti se spendo la live esemplari vai ora sopra il bb cosa mio dio c'è il gigante ma sei scemo cosa papà aspetta registrando wow ah 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 vai oh mio dio wow dove l'ho staccato cavolfiore cavolfiore questo qua questo qua questo qua questo qua wow 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 tuttavia tuttavia via 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 dai che c'è sono una monede oh cazzo cavolfiore cavolfiore vai no ma che fortuna vai oddio oddio boom Ehi vado è bello modo un giardino oh mio dio quanti sono il riseto non vado c'è vado Grazie a tutti. Sì, l'abbiamo ammazzato a miliardi di colpi. Oddio, che figo. Che figo. Oh my god. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Un like, iscrivetevi. Bella a tutti ragazzi. Ciao.